DKW non solo carta carburante ma anche una grande novità che presentate proprio qui all'edizione 2017 del Transpotec. Corretto, assolutamente vero. Parliamo di una vera e propria evoluzione nell'ambito dei pedaggi e tostandali in Italia, un prodotto destinato ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate e parliamo di DKW Box Italia, un nuovo box che permette una libera scelta per poter finalmente pagare i pedaggi e tostradali con un fornitore alternativo. Direi proprio una vera rivoluzione però l'Italia non è il primo paese in cui lo presentate, giusto? Corretto anche in questo caso, non è il primo paese. Arriviamo sull'onda della certificazione venuta in Francia, in Spagna, in Portogallo e per quanto riguarda il progetto con un maggiore respiro l'Austria a seguito del progetto del RITS. A questo punto i telespettatori saranno anche curiosi di sapere da quando sarà disponibile quindi in vendita. Parliamo di una fase di registrazione che inizierà già nel mese di settembre di quest'anno, pertanto le apparati saranno disponibili per i nostri futuri clienti e attuali clienti già entro la fine dell'anno. Perfetto, allora grazie, buon lavoro!